Ciao a tutti gli amici dei nostri canali social. Oggi per prima cosa salutiamo Kevin che sta giocando in giardino. Vi presentiamo la casa come le facevano, una casa abbinata allo stato originario e riferimento 1255 sul nostro sito www.agenziagontarini.it È ad Alfonsine, in via Fiorentini. In fondo questa via trovate il parco Millegoccio, più grande del paese, con i suoi sentieri e il suo laghetto. La casa ha un bel giardino sul fronte. Entriamo e salutiamo Carlotta e Lucia che si stanno divertendo nell'ampio ingresso. Andiamo nella sala. Un bel soggiorno, grande, con una bella finestra che le dà tanta luce. Dalla sala, andiamo nella sala da pranto, in un alto ambiente generoso nelle dimensioni. Abbiamo chiamato questi immobili come le facevano una volta proprio perché abbiamo soggiorno, sala da pranto e cucina di grandi dimensioni e divise. Dalla cucina, che vedete ora, senza fare troppo rumore, andiamo nel garage. Nel garage c'è Antonio che sta dormendo. Il garage è grande, con una bella porta in legno. Sempre al piano terra vi facciamo vedere il bagno e un comodo ripostiglio dove c'è anche la zona calcana. Un breve riepidogo del piano terra. La cucina. Dalla cucina, la sala da pranzo. Dalla sala da pranzo passiamo all'ingresso e al soggiorno, che affaccia sul nostro giardino. Bene, ora saliamo. La scala è in marmo, chiara e dona molta luce all'ambiente. Arrivati al piano primo troviamo un bel e ampio disimpegno. Qui facilmente si potrebbe ottenere una terza camera. Una bella armadiatura e la prima camera da letto. Grande, col pavimento in legno. Una grande finestra che dà sul fronte della casa. La seconda camera matrimoniale. Anche questa molto grande. Anche qui troviamo il pavimento in legno. Gli ambienti sono decisamente luminosi. C'è la possibilità di avere i mobili che vedete o se preferite di avere la casa completamente buota. Andiamo a vedere il bagno. Anche questo di grandi dimensioni con vasca. Completamente rivestito e con un bel pavimento verde. Bene, questo era il piano primo. Ora possiamo scendere e tornare nel nostro giardino. Non dimenticatevi like sulla nostra pagina Facebook Agenzia Contarini sul nostro profilo Instagram Agenzia Contarini o sul nostro canale YouTube Agenzia Contarini. Speriamo che la nostra presentazione vi sia piaciuta e vi facciamo un breve riepilogo. Era la casa come le facevano una volta. Riferimento 1255 con richiesta di 108.000 euro. Ciao a tutti i nostri amici. Ciao a tutti i nostri amici.